buongiorno a tutti oggi è venerdì 7 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su due mercati fuzzimib e dax iniziamo con il dax allora come detto nell'analisi di ieri sera che mi auguro abbiate ascoltato o che magari è meglio ascoltare ieri abbiamo avuto la violazione di uno swing estremamente importante quello 12.528 per alcuni di voi questo piccolo swing non dirà assolutamente nulla in realtà è fondamentale per il proseguo eventuale della discesa il discorso che però uno swing da solo non fa nulla ok per la ciclica evoluta ci bisogna anche del supporto attraverso i volumi della violazione stessa quindi qui siamo andati in violazione però bisogna che si prosegua si prosegua nella direzione corretta con volumi a ribasso in questo momento i future sulla germania sono a praticamente due punti in più tre punti in più bisognerà avere una conferma tramite i volumi però come detto oggi però è venerdì vi ricordate bene la regola del relativa la statistica che ci dice che è meglio evitare di aprire nuove operazioni nel pomeriggio anche perché si rischia poi di doverle portare in overnight nel weekend e non soltanto tra un giorno e l'altro cosa ancora più pericolosa tra virgolette di quella di andare da un giorno all'altro anche perché nel weekend può succedere qualsiasi genere di cosa e la cosa può avere un impatto sui mercati per questo anche se solo temporanea per questo in questo momento siamo arrivati a 14 barre su minimo 22 quindi ci mancano ancora un paio di ore per arrivare alla durata minima del nostro ciclo del nostro t-3 nel caso iniziassimo ad avere una violazione di questo minimo a 12.578 appena andassimo in violazione dei 12.519 entro però le 18 20 candele ok quindi ci va anche il tempo ciclico avrebbe senso valutare operazioni short viceversa se dovessimo andare a violare i massimi dovremmo aspettare per capire che cosa può succedere perché l'inverso che è il controllo che ci dà solitamente sui cicli qui siamo arrivati comunque o qua 21 barre e va bene o qua appunto 27 barre bisognerebbe vedere che cosa vuole partire l'inverso perché un superamento di questi massimi di uno di questi due swing ci porterebbe un vincolo ribassista su inverso e quindi spinta verso l'alto per cui per oggi è facile se andiamo sopra qua e ci saranno volumi nei tempi debiti e tutto il resto può avere senso un'operazione long se invece sempre entro magari 18 19 candele andremo sotto questo minimo che fa da swing assoluto swing importante perché ci ha portato alla violazione di questo può avere senso sempre entro le 18 19 candele valutare uno short i target li avremo dall'algoritmo ma un primo target di appodo può essere 12.440 ok questo ve lo do di base per quanto riguarda il resto ricordiamoci che abbiamo una centratura alternativa che vi ho dato che quella che mi interessa di più mi piace di più in questo momento che ci permette di valutare i cicli superiori non soltanto il trading intraday per cui da qui può star partendo eventualmente non soltanto nuovo t inverso ma nuovo t più 1 inverso quindi con più spinta verso il basso ma va confermata se l'ho cambiata ci sarà però un perché d'accordo per quanto riguarda il nostro grafico candele anzi a medie mobili notate che ci siamo fermati proprio dove passano tantissime medie mobili altra cosa interessante di nuovo abbiamo una candela che assomiglia a un inverted hammer posizionata non proprio nel posto migliore ma che ci direbbe attenzione partenza di qualche cosa ad andare a scendere verso i 12.203 dove passa la media mobile a 200 periodi qui tra l'altro vediamo un pochino abbiamo un massimo a 768 e un altro a 799 quindi higher e lower abbiamo anche una divergenza ribassista piccolina ma dato che il grafico a candele giornaliere non è proprio così piccola e questa sta già dando la spinta verso il basso quindi come al solito ricordatevi hft e volumi ci diranno tutto qui peraltro siamo a 1 2 3 4 5 candele su minimo 6 per la durata di un t settimanale quindi se andasse in chiusura poi potrebbe fare altre cose per quanto riguarda invece il fuzzimib siamo in una situazione non particolarmente dissimile ma non siamo al sesto t-3 siamo al quinto t-3 quindi attenzione di nuovo allo swing inverso a 19.403 che se violato entro in questo caso anche la ventesima ventunesima candela può portare a un semplice short con target anche in quest'area a 19.253 orientativamente ma l'algoritmo poi ci darà i tempi effettivi mentre invece se andremo sopra questo massimo a 19.552 avremo effettivamente nei tempi ciclici da verificare la chiusura del secondo t-3 inverso e anche del primo t-2 inverso che è già arrivato tra l'altro a una durata considerevole ovvero comunque a 62 bar per cui questo proprio la chiusura se qui avessimo avuto la chiusura del secondo t-3 inverso del t-2 inverso anche qui avremo più spinta verso il basso e più forza per andare a ribasso attenzione perché anche in questo caso la media mobile a 200 periodi ci può dare lo spartiacque per la giornata stessa identica cosa qui dovremmo avere anzi qui no divergenze non abbiamo sì una piccolissima da questo massimo a questo massimo crescenti e decrescenti con come vi ho segnalato appunto una centratura la centratura alternativa che fa partire il nuovo t settimanale inverso da qui o viceversa da qui perché in questo caso è differente come cosa abbiamo 11 candele quindi ci può stare anche tutto un settimanale inverso arrivato fino a qui e qui partenza del secondo settimanale inverso per cui attenzione anche a quello che può fare questo t perché abbiamo che il nostro primo t più due fosse anche arrivato a 39 bar e poi va fino a 43 e quindi si può proseguire la discesa in questo caso verso 18471 quindi mi raccomando situazione fluida dubbi sulla centratura nel senso di vediamo che spinta si può avere verso il basso l'importanza focale va a finire sui volumi d'accordo vi ringrazio per l'ascolto se volete essere giocatori e non soltanto spettatori io dico carta da parati se volete diventare indipendenti questo è il posto migliore per iniziare se avete bisogno di materiale gratuito lo posso fornire tramite un invio di mail a info chiocciola financial armor.eu nel caso desideriate fare altri passi successivi avete un valido analista al vostro fianco vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata la mia sarà così perché ho già deciso che la voglio così un po' come quella di ieri due shorting gain notevole buona giornata a tutti